Salve a tutti ragazzi bentornati su 1 a 1 palla al centro Esatto Quindi facciamo una micro sfida quindi chi vince questo vince tutto Facciamo una micro sfida Quindi tre partite Tutto a cazzo Mamma mia Tutto a cazzo Tutto a cazzo Quindi chi vince questa vince tutto Ho beccato il bufo sfortunatamente Ma questa è la mappa di prima No questa l'abbiamo rifatta No questa l'abbiamo fatta prima Ma non è vero Scusa è successo la stessa cosa nello scorso che in play abbiamo cambiato Quindi ora siccome c'è il bufo tu puoi No andava rifatta Voi siete Andavamo fatto la stessa cosa Duello Nuova partita Abbiamo fatto la stessa cosa nello scorso che in play L'hai fatta tu No perché c'è il bufo non la volevi Mi bello che è lo scorso che in play Adesso ti faccio vedere Questo è il nuovo Adesso immagino che andrà tutto bene Perché c'è lui il bufo sulla mappa del bufo Quindi penso che non ci siano problemi a fare questa cosa Non la prendo Non la prendo Si lo prendi Lo prendo Lo prendo Lo prendo Ha vinto ragazzi Come se non bastasse sto tiro a B Bello il tiro Tiro era un po' una merda effettivamente però A te ti è capitato un personaggio che tu ami molto Oh Ha messo pausa Attenzione Quanto è inutile questo cazzo di potere Ma guarda dove me l'ha messo Guarda dove me l'ha messo Ma tanto ci entra col colpo zen Calcola tutto lui Mo fa almeno 50 mila punti Io mi faccio vedere Ma come non lo puoi fare 50 mila punti Non li puoi fare Primo perché sono la seconda palla E secondo perché C'ho pochi arancioni qua Vai colpo zen 140 ancora più punti 140% vuol dire che io prima facevo una merda nera Prima facevo schifo Effettivamente Si poteva fare un punteggio forse migliore Senza colpo zen Vedi quelle palle Ti evitano lo scivolo Fastidiose proprio Come hai fatto a prenderla Ci entra la manco per il cazzo Dai fammi vedere Fammi sto tiro fatto bene Come si deve Aspetta Ah non quello Si Ragazzi è Oh è combattuta È combattuta È combattuta E tu c'hai quelle Le chele che potrebbero darmi problemi Ora come ora Perché sono abbastanza libere Però Però non ci va tanto La palla E sono inutili Le chele Questa Dove cazzo dire Dove Dove Questa è veramente una brutta decisione Da prendere Vabbè arrivi qua sicuramente Eh qua si Qua prendo Ma poi basta Mi piace il rischio Mi piace Ho giocare tra i numeri all'otto 28 36 115 115 Perché sono gli anni di carcere Che hanno dato Madonna 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 siiii ah cazzo cazzo ah cazzo dove faccio si sono contento va bene va bene eh mo 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 mi faccio prendere lo sconforto e faccio qua che cazzata io già lo so ahahahahah eh dai la puoi tirare la puoi tirare a colpo sicuro 115 il numero degli anni di carcere che hanno dato a zio tonino quando ha violentato la capra c'è ma va bene ma va bene ancora una volta senti io devo credere in me madonna il numero dei calli che c'ha mia nonna madonna se devo credere in me certe volte eh ha ripreso ad andare il nostro reddits oddio sto sudando oddio oddio madonna vendimila ma vendimila di cosa siiii ma vendimila di cosa siiii 66 al giusto il doppio gioco subito vai 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 la zucca di merda la zucca di merda ma la zucca è il livello della zucca che cacca della vendi a fare mi fa schifo come personaggio la zucca non è simpatico come l'unicorno la zucca non mi sta capitando mai l'unicorno a me è capitato lo vuoi? facciamo a cambio a sto giro no madonna madonna il viola no allontanati allontanati dal viola allontanati porca puttana nooo guarda la 24.000 punti 21.000 ti devo togliere quel cosa assolutamente parlando assolutamente ripetutamente mo tu ti puoi godere la bellissima guida dell'unicorno la bellissima guida è proprio bellissima guarda che schifo di tiro allora mo devo sfruttare sta guida di eh dai ma allora lo fai a pochi guarda guarda puoi fare certe cose ma cosa posso fare? puoi fare certe cose guarda dove sta il viola devo provare puoi fare dei tironi dei tironi puoi fare che dici lo colgo quello? mi sa che la parabola è discendente si mo forse c'hai qualche chance madonna 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 risali la risali la fai qualcosa unicorno merda quanto ti odio guarda che culo ha preso il cesto 1800 punti regalati proprio vai giù devi andare giù unicorno vedi che cazzo dobbiamo fare qua eh tornare in merda guarda guarda che bella cosa ma che cosa che non fai fare un cazzo di niente è capitata una brutta situazione ma vai a cagare tu l'unicorno normalmente sto potere ti avrebbe consentito di fare cose incredibili però ti è capitata una situazione un po' borderline nella quale io ho paura ho paura ho paura che Redez sta cominciando a sentire la sconfitta io devo recuperare con bonus cesto ti rendi conto? e tu devi fare meno 25 vedi come te lo dico guardalo guardalo eh no finchè faccio bonus cesto almeno va bene bonus cesto con almeno un rosso guarda che che potere di merda inumile ti è capitato male oggi ti è capitata male la mappa perché altrimenti guarda la potresti fare un super lungo ma non li vede ragazzi perché non è avvezzo alla ricerca della finezza che mi porti dai dai sono in zona avvezzo ti devo recuperare e ti devo stracciare guarda lì guarda quanti punti ha fatto sculato di merda guarda quanto sculato cosa che era tutto tu mi vuoi fare un tiro lungo ah mauna oh ce la stiamo combattendo niente niente proprio se eh 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 ma io ti faccio fare pure feste estrema è meglio fare un meno 25 o un più 15 questa è la domanda che frullava nella testa di Tom Sawyer mentre sulla zattera si assonnecchiava piano piano insieme all'amico suo Tom De Langer mi ha mai a te la scelta che fai? questo no no non ci posso che non ci posso che non ci posso che eh fanculo non ci posso ragazzi questo tiro lo voglio lo voglio dedicare a voi tutti che ti fate per me perché oggi penso si sia vista la classe ma quando c'hai culo porca puttana quando scusi io ti faccio rivedere quando c'hai culo quando c'hai culo scusi guarda guarda la classe questo è il tuo tiro più sculato questo è il mio tiro più bello questo l'hai fatto senza pensarci proprio perché senza pensiero io ho detto questo faccio e poi l'ho fatto stai zitto io ho fatto un'introduzione a quello che sarebbe stato poi fanculo è il mio capolavoro però tocca a me tocca a te vai sul verde mignotta guarda quante palle sta collezionando dall'alto della sua devo recuperare 100.000 punti qua manco Gesù Cristo mi può aiutare ma manco manco se mi ci metto guarda che se io continuo a fare dei tiri di merda come questo tu hai grosse possibilità grosse no 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 rientrate vittalo eh però però e che cacchio io sto sudando sto sudando vuoi sentire la scella pezzata guarda coso mo dobbiamo fai punti mo deve oh dai oh oddio guarda lì 50.000 punti 50.000 coso oh non li facciamo non li facciamo mai più eh ma dai ma no vabbè 6.000 punti stai a 70 stai a 70 stai a 70.000 punti ma chi ti riprende hai vinto non ho vinto sto sotto di 80.000 punti stai sopra di 50.000 adesso non ci vuole molto a rimontare tutto eh dai per favore questo è un problema dai ma guardati sto soffa sto soffrendo sai quando si dice a perpendicolo sono finito giù eh minnaggia quella puntata niente niente ragazzi niente io rido un po' per l'euforia un po' perché giustamente sono teso anch'io non vorrei ammetterlo ma sono teso ma cosa sei teso se stai a 80.000 punti più di me attualmente a 60.000 come devi fare un meno 25 come quelli che mi piacciono a me nooo no no e che cazzo tutti gli ho saltato lì dai che cazzo su ma guarda dove cazzo questa era un'ingiustizia ragazzi questa è stata un'ingiustizia bella e buona senti hai ripreso un po' di quello che ti è successo prima quindi stai zitto un po' nemmeno da un po' prima ho solo fatto un buon tiro stai zitto un buon tiro ma cosa buon tiro guarda dove guarda cosa devo fare ti devo mettere in riga sono bravo nooo dai non fa il culo non fa il culo ho perso ho perso poteva giocarsela molto meglio dai che l'hai vinto invece ha preferito lasciarsi andare come un tossicodipendente sulle scale di una parrocchia ho perso ho perso bravo sei stato bravo hai avuto culo devo dire la verità hai avuto un sacco di culo ma proprio hai avuto uno di quelle quelle partite su perchè tu quello non l'avevi calcolato guarda che ti giuro guarda che quello ti giuro vabbè andate a rivedere quella parte guarda che ormai sono trent'anni che qua ci conosciamo io qui lo dico che tu quello non l'avevi nemmeno preventivato andate a vedere quel punto nemmeno proprio per il cazzo niente vedete un scintillino nei miei occhi io l'avevo intuito quel punto l'avevo intuito da prima ma che cosa comunque grazie per averci seguito e al prossimo gameplay hmmm